Adriana Volpe accusa Antonella Elia. Amicizia al capolinea tra le due. Quando è troppo è troppo e Adriana Volpe non ci ha messo molto a farlo capire ad Antonella Elia, opinionista del grande fratello VIP. L'ex concorrente del reality in un'intervista rilasciata a tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato non solo di essere molto amica della Volpe ma anche di esserci rimasta molto male quando dopo averle mandato un messaggio su uno smalto semipermanente la conduttrice non le ha mai risposto. E tanto per calcare ancora di più una mano ha anche aggiunto che lei non sopporta le amiche fasulle che davanti alle telecamere sorridono poi fuori dagli studi televisivi sparlano. Parole che guarda caso non sono andate giù ad Adriana Volpe che in un post su Instagram ha deciso di ribattere punto su punto ad Antonella Elia. Antonella Elia e Adriana Volpe le parole dure della conduttrice. La conduttrice parlando dei suoi rapporti con Antonella Elia ha detto che sì le ha mandato un messaggio su uno smalto semipermanente chiedendole come si usa e lei non solo le ha risposto quindi altro che silenzio ma lo ha fatto anche con un messaggio vocale. Adriana Volpe si è poi lamentata del comportamento dell'opinionista del grande fratello Vip dicendo che quando l'ha cercata per chiederle di uscire la Elia si è limitata a rispondergli con un sì e con uno smile ma nei fatti non l'ha più cercata. Dunque altro che Adriana Volpe a non essersi comportata bene tra le due è stata proprio Antonella Elia. Antonella Elia la risposta dell'opinionista allo sfogo delle Volpe. La conduttrice ed ex G Fina è apparsa molto amareggiata tanto che continuando con il suo sfogo ha chiesto ai fan secondo loro chi era la fasulla tra lei e una pseudo amica chi ha rilasciato un'intervista fasulla con cose fasulle. Un attacco durissimo è reso ancora più pesante da un altro retroscena che riguarda le due ex G Fina. Antonella Elia si sarebbe lamentata perché Adriana Volpe non le ha fatto l'imbocca al lupo per il nuovo grande fratello Vip ma guarda caso la conduttrice invece l'ha fatto e non solo a lei ma anche a Pupo e ad Alfonso Signorini. E non è finita qui perché la Elia al contrario non avrebbe mai augurato buona fortuna ad Adriana Volpe per il suo programma ogni mattina. Tuttavia malgrado le parole velenose dell'Elia la Volpe ha deciso di lasciarle una porta aperta dicendo che c'è sempre tempo per recuperare perché l'amicizia è una cosa seria e non fasulla. Secondo voi Antonella Elia risponderà ad Adriana Volpe? Oppure l'opinionista del grande fratello Vip dopo essere stata sbugiardata indirettissima si limiterà ad un'alzata di spalle? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!